ed eccole le scarpe come arrivano in bottega d'angelo lustre scarpe le suole sono rimaste attaccate solo dove c'era la cucitura tutto il resto è stato catturato dal tempo ora procediamo con la rincollatura e successivamente con la rincollazione della midsole quando si parla di restauro sneaker si parla di ricolorazione a mano col pennello come gli artisti è un lavoro di pazienza di precisione mi aggiungo soprattutto di passione fine restauro calzature pronte per essere spedite al proprietario incollate ricolorate sanificate con l'ozono e voilà come dice l'insegna sulla nostra bottega sempre un passavanti non è solo un modo di dire ma è una modo di essere